Ben trovati a una nuova edizione di Ora Tg che apriamo ancora con le tragedie del mare, dell'immigrazione clandestina, naufragio come sapete nelle scorse ore a largo della Libia. Questa mattina lo sbarco è avvenuto al porto di Catania a bordo della nave 18 della Guardia Costiera, 86 sopravvissuti ed 8 cadaveri recuperati dai soccorritori, ma sono oltre 60 i dispersi. Sentiamo Mario Grasso. È in corso al porto di Catania lo sbarco dei supersti dall'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia, il primo purtroppo di questo 2018. Sono 86 i superstiti recuperati, ma ci sono anche 8 cadaveri. Questo quanto custodito nella pancia della nave 18 della Guardia Costiera italiana. Ma i morti potrebbero essere ben di più, secondo quando affermato da Flavio Di Giacomo, portavoce italiano dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni su Twitter nella tarda mattinata. Infatti sarebbero 64 i migranti morti nel naufragio dell'Epifania a largo delle coste libiche. Secondo le testimonianze raccolte dall'Organizzazione a Catania al momento della partenza, il gommone, che poi naufragato, trasportava 150 persone. Sul numero delle vittime e dei dispersi mancano però dati ufficiali. La ONG tedesca Sea-Watch aveva parlato di 25 morti. La Guardia Costiera conferma per il momento il recupero nell'area catanese di 8 cadaveri e 86 superstiti. Traumatica l'esperienza anche per i medici a bordo. È stato un inizio anno tragico, come ha detto lei. Ci siamo trovati in una situazione abbastanza brutta, in cui c'era questo gommone che stava naufragando. Abbiamo fatto il possibile, abbiamo salvato 86 migranti, tra questi abbiamo dei bambini, un bambino di 3 anni, una bambina di 2 anni, un altro bambino tra i 5-6 anni, non sappiamo bene. Le informazioni che abbiamo su di loro non sono tantissime perché si trovano ancora sotto shock, quindi non abbiamo voluto stressare troppo la situazione. Dal punto di vista medico, pochi casi importanti, se non qualche ustione, qualche rialzo febbrile. La cosa più brutta da fare è stata ovviamente la rianimazione sui rib della Guardia Costiera. Anche grazie alla sinergia tra noi, del Corpo di Soccorso Italiano, dell'Ordine di Malta e la Guardia Costiera, siamo riusciti a mettere in salvo questi migranti. Ci conferma otto morti? Sì, abbiamo otto cadaveri di cui sei donne e due uomini. Non avete capito quando sono morti e per quale causa? Supponiamo l'annegamento, ma questo è da valutare. In ogni caso lo scenario era quello, quindi non possiamo pensare ad un annegamento. Davvero impressionanti le immagini che abbiamo appena visto e si riferiscono al naufragio. Intanto in provincia di Catania c'è stato un intervento le scorse ore da parte della polizia a causa, a Mascali, siamo a Mascali, a causa della contesa delle rivendicazioni per un alloggio. E' finita davvero male, a rissa violenta. Ci sono stati anche tre arresti. Invece si è sfiorata la tragedia in pieno centro, nella zona del castello Ursino a Catania, la scorsa notte, perché un uomo stava per far saltare in aria un intero palazzo, pare per dissapori condominali. Ci racconta tutto Daniela Cantarella. Tragedie sfiorate a Catania e a Mascali, a distanza di poche ore l'una dall'altra. Asti o contrasti e vecchi rancori tra vicini di casa o parenti. Le motivazioni che accomunano due gravi e diversi episodi, verificatosi il primo intorno alle 4 di questa mattina in via Castellursino a Catania, il secondo qualche ora più tardi in via Roma a Mascali. Era un folle progetto di vendetta, quello fortunatamente fallito, architettato dal 55enne Antonino Salvatore Lopresti, l'uomo residente in un palazzo in via Castellursino, che ha tentato di fare saltare in aria la propria abitazione per causare danni all'appartamento della vicina di casa, che vive con la figlia di 10 anni e un cagnolino. Alla base del gesto estremo alcuni contrasti con il vicinato. L'uomo, che pare sia affetto da problemi psichici, ha cosparso il suo pavimento con oltre 10 litri di benzina, aprendo poi le bombole del gas e disseminando nelle scale diversi petardi, la cui esplosione avrebbe dovuto fare da innesco alla deflagrazione. Il peggio è stato evitato grazie all'intervento immediato di polizie e vigili del fuoco. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l'uomo, che pare abbia confessato, chiuso nella sua auto. Quattro le pattuglie della polizia presenti, insieme alla scientifica che ha svolto i rilevi del caso. E c'erano dei litigi alla base anche del secondo episodio, verificatosi in via Roma a Mascali, dove 5 persone, 3 donne e 2 uomini, se le sono date di santa ragione per impossessarsi di un appartamento in cui abitava fino a qualche giorno fa un 73enne deceduto, che però non pare abbia lasciato alcun testamento. La violenta risse è stata notata da alcuni passanti che hanno subito avvertito i carabinieri intervenuti in tempo per evitare il peggio. La casa popolare in questione era occupata da una romena, già convivente dell'anziano, alla quale si sono rivolti con violenza per affermare i propri diritti, i parenti del defunto. Da qui la furibondalite. Ricostruita la vicenda, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di tre donne, di 46, 45 e 59 anni, tra loro anche la romena, deferite altre due persone, un 18enne e un 41enne, per rissa aggravata in concorso. Le tre donne, espletate le formalità del rito, sono state poi rimesse in libertà, inconsapevoli forse, che alla base della loro lite c'era il nulla. A quanto sembra, infatti, secondo le parole rilasciate dal sindaco di Mascale Luigi Messina, in assenza di atti, la casa sarebbe di proprietà del comune e quindi non spetterebbe a nessuno di loro. Sindaco, tra i due litiganti, il terzo gode oggi cade proprio a pennello. Vengo a sapere in questo istante che c'è stata una lite familiare che dovremmo andare a verificare tutti quelli che sono i motivi tra di loro. Certamente, loro stanno agendo, probabilmente mi riferiscono per un problema di casa che si tembia a Roma. Mi sono informato con i nostri uffici i quali mi riferiscono che la proprietà dell'immobile del comune di Mascali dovrebbe essere verificata se hanno i requisiti e gli eredi di averne la titolarità. Pertanto, saranno gli uffici che poi andranno a seguire tutti gli atti in questione. Quello che a noi dispiace è che questi episodi non portano nulla di positivo. Credo che le cose vadano discusse nel modo corretto ed equilibrato. E voltiamo pagina, lasciamo per il momento la cronaca. Parliamo di agenda digitale. Come sapete, l'Italia si sta, anche se lentamente, adeguando alla strategia dettata dall'Europa, strategia che impone l'utilizzo delle nuove tecnologie anche alle pubbliche amministrazioni. E dunque oggi c'è stato sul tema un vertice in prefettura. la presenza degli amministratori di tutta la Sicilia orientale. Sentiamo Francesco Larosa. Una iniziativa di rilevanza ultra-provinciale che ha visto la partecipazione dei prefetti di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa insieme ad alcuni sindaci o loro rappresentanti dei comuni delle rispettive province, nonché del direttore centrale per i servizi demografici dell'amministratore dell'interno, dell'amministrazione delegato di Sogei e altre componenti istituzionali interessate al centro dell'incontro introdotto dal prefetto di Catania, Silvana Riccio. L'Agenda Digitale Italiana con informazioni e indicazioni importantissime in riferimento a questo nuovo strumento. È importante per due motivi. Motivo in sé perché noi stiamo parlando di anagrafe nazionale, quindi del popolamento da parte dei comuni di questa anagrafe nazionale che consente ad ogni cittadino dovunque, in qualunque zona del paese si trovi di avere i suoi documenti anagrafici, cambiare residenza, chiedere uno spostamento di qualsiasi elemento che riguardi la sua anagrafe. In qualsiasi città del paese si trovi. I comuni dovranno popolare questa anagrafe nazionale, ovviamente attraverso un supporto informatico e qui il Ministero, l'altra novità è questa, è che il Ministero mette a disposizione oltre che un supporto tecnico specialistico, attraverso delle risorse del Dipartimento della Funzione Pubblica anche degli incentivi diciamo ai comuni, non sono tanti, ma sono delle risorse economiche che servono a ristorarle in parte delle spese che loro devono affrontare per il popolamento di questa anagrafe. L'altro argomento è la carta di identità elettronica che è uno strumento che bisogna assolutamente, oltre a far parte dell'obiettivo dell'agenda digitale del nostro Paese, ma è uno strumento che bisogna assolutamente incrementare perché dà, come voi sapete meglio di me, delle, uno, in primo luogo, dà un elemento di sicurezza maggiore, nel senso che è molto complicato falsificarle, è molto complicato rubarle, insomma utilizzarle. Due, può diventare, e stanno studiando in questo senso, questo che ci hanno spiegato oggi i tecnici stamani, della SOGIE, del poligrafico, dell'agenda digitale, può diventare lo strumento attraverso il quale con quella carta paghiamo il biglietto dell'autobus, attiviamo dei servizi del comune, entriamo, che ne so, nel badge, di alcune, serve anche come badge nelle pubbliche amministrazioni, cioè racchiudere una serie di funzioni per cui uno invece di portarsi tante piccole carte tipo carte di credito, porta dietro un documento di riconoscimento pienamente valido in tutto il paese e anche per l'estero che sostanzialmente ha anche altre funzioni aggiuntive, quindi come vede è un'operazione di innovazione, di semplificazione amministrativa. A fianco nostro c'è stato il sindaco di Catania anche nella sua veste di, oltre che di sindaco, di presidente nazionale del Lanci perché questa è un'operazione ovviamente fatta in collaborazione con l'Anci. Ed intanto i poliziotti del Volanti hanno rivenuto e sequestrato a carico di Gnoti un fucile marca Berretta calibro 12 ed un fucile marca Franchi anch'esso calibro 12. I poliziotti hanno sequestrato le armi nel corso di alcuni controlli in un'abitazione abbandonata e semidistrutta nel quartiere San Cristoforo. I fucili automatici li vedete in foto erano a canne mozze, le armi erano occultate all'interno di una vasca in cemento utilizzata per la raccolta dell'acqua. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia scientifica che ha repertato le armi già sequestrate dagli agenti. Mafia 25 anni fa l'uccisione del cronista Beppe Alfano ma a quanto pare è ancora un paese scettico il nostro secondo un sondaggio di Demos per un italiano su tre la mafia è ancora più forte di 30 anni fa sentiamo Gwen Agarozzo 25 anni fa l'omicidio del giornalista messinese Beppe Alfano nel giorno dell'anniversario della sua morte la notizia è che un italiano su tre crede che la mafia sia ancora più forte di 30 anni fa è un paese che possiede una fetta di popolazione scettica sull'indebolimento di Affariloschi e Coschi affiliate ai clan della malavita organizzata all'Italia se è vero infatti che ogni anno le commemorazioni dei grandi uomini dell'antimafia tra questi certamente c'è Alfano con il suo giornalismo d'inchiesta registrano un numero sempre più elevato di adesioni soprattutto da parte dei giovani estremamente sensibili in tal senso dall'altra parte secondo Demos che ha effettuato un sondaggio un cittadino su tre riti è nella potenza mafiosa inalterata da 30 anni a questa parte una percezione sociale che dimostra come la gente crede sia cambiato poco o nulla tanto più che secondo un ulteriore 46% la sua influenza è rimasta pressoché invariata meno di due italiani su dieci considerano la presenza mafiosa diminuita e se si guarda la politica gli elettori della Lega sono quelli che avvertono il fenomeno mafioso ancora più pregnante nel tessuto sociale di parere opposto invece ai sostenitori di Forza Italia una mafia che persiste che si è trasformata e che ha barcato i confini del territorio radicandosi al nord a percepire questo fenomeno proprio gli abitanti del nord ovest fino alla pianura padana una percezione forte anche al nord est che si abbassa via via spostandosi verso sud che il fenomeno si sia spostato dal meridione verso Alpi ed Appennini è un concetto tuttavia che fa fatica ad albergare in chi ha basi e radici politiche più forti in queste aree e ancora a Catania cambio al vertice come era stato già annunciato nei giorni scorsi della questura si è insediato proprio questa mattina il neo questore Alberto Francini che come prima cosa ha reso omaggio ai tanti poliziotti del territorio caduti fra cui anche l'ispettore di polizia Filippo Raciti ucciso durante gli scontri al Massimino una questura moderna e dinamica che affianchi alle attività tradizionali di contrasto del crimine organizzato e non la giusta attenzione verso i nuovi fenomeni delinquenziali sempre più presenti nelle grandi aree urbane e persino nelle periferie rurali il nuovo questore di Catania Alberto Francini disegna così la questura etnea nel giorno del suo insediamento incontrando i giornalisti non solo per i saluti diritto ma anche per tracciare la visione globale del sistema sicurezza e tutela della comunità Francini Napoletano ha grande esperienza proviene dalla questura di Pisa ma per una ventina d'anni si è occupato direttamente della sicurezza degli eventi sportivi a Napoli e provincia funzionario di polizia dal febbraio 1983 è laureato in giurisprudenza con specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione relatore in seminari internazionali sull'ordine pubblico negli stadi e oggi nel giorno dell'insediamento quale primo atto ufficiale il nuovo questore ha voluto depor ad acireare dei fiori innanzi alla tomba di Filippo Raciti perché ha detto Raciti rappresenta per il sistema italiano di organizzazione e sicurezza degli incontri di calcio uno spartiacque c'era un prima di Filippo Raciti che il questore considera un martire della mancata sicurezza negli stadi c'è un dopo quanto accaduto quella tristezera al Massimino ma è un martire nel senso che dopo di lui la normativa sugli stadi e l'ordine pubblico negli stadi è profondamente cambiato rispetto al passato quindi la morte di Raciti ha rappresentato proprio una discontinuità rispetto al passato e speriamo che questo tipo di atteggiamento dei tifosi e delle situazioni degli stati prosegue anche in futuro diversi gli argomenti trattati in conferenza stampa dal contrasto alla criminalità ad un innalzamento della percezione di sicurezza al piccolo spaccio normativa quest'ultima che si rifà ad una legge del 1975 ormai superata dal tempo poi la vicenda emigrazione è un fenomeno innanzitutto è un fenomeno tragico e poi è un fenomeno che impegna il nostro paese già da tempo e credo che lo impegnerà ancora per lunghissimo tempo ma non solo il nostro paese io ho l'impressione che noi siamo qua alla vigilia di cambiamenti epocali da questo punto di vista per tutto il mondo occidentale io posso dire dal mio piccolo di questore sebbene questore di Catania che è una questore importantissima ma pur sempre un piccolo questore che le donne e gli uomini della polizia di stato così delle altre forze in campo mettono veramente tutta la loro professionalità il loro cuore e il loro impegno per cercare di contenere almeno gli aspetti più difficili e più tragici di questo fenomeno su questo non ci sono dubbi lo abbiamo dimostrato in questi ultimi 3-4 anni e credo che lo faremo anche in futuro intanto cresce il fenomeno della pedofilia online così come le trappole degli hacker e più in generale i reati informatici lo rivela la polizia postale che intanto traccia un bilancio dell'ultimo anno di attività di indagini e contrasto crescono i reati informatici si intensifica di conseguenza l'attività di contrasto ad opera della polizia postale delle telecomunicazioni per la sicilia orientale di catania che traccia un bilancio all'inizio del 2018 per i 12 mesi appena trascorsi deep web dark net cyber stalking cyber crime cyber terrorismo sono termini ormai consueti nel linguaggio quotidiano e sono fenomeni che gli agenti hanno riscontrato in aumento pedopornografia si è agito sotto copertura su tutte le piattaforme web 50 casi trattati 6 persone arrestate 46 denunciate tra queste 15 per adescamento di particolare rilievo grazie anche alle segnalazioni di genitori l'operazione 12 apostoli che ha scovato un'associazione delinquere adaci buonaccorsi nella comunità religiosa di lavina finalizzata alla violenza sessuale aggravata a danno di minori tecniche di hackeraggio sempre più raffinate hanno attaccato ancora più soggetti quasi 2000 i casi tra questi si evidenzia l'operazione CryptoLocker l'associazione delinquere aveva base operativa nel napoletano e storcendo denaro in tutta Italia imprenditori e professionisti i cui dati venivano criptati e bloccati investigatori presenti in merito alle organizzazioni terroristiche di matrice religiosa islamica la cui strategia messa in campo negli ultimi anni ha spinta ad un'attività specifica costante di osservazione e analisi dei contenuti messi in rete rimossi oltre 1500 spazi web attività di contrasto intensificate di pari passo la crescita delle aspettative di sicurezza da parte del cittadino soddisfatte dalle molteplici iniziative e campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi e sulle insidie della rete informatica i primi destinatari i giovani delle scuole che grazie a pagine Facebook e Twitter dedicate a queste attività possono interagire direttamente con la polizia postale di supporto per gli internauti inoltre il portale del commissariato della polizia di stato è l'app scaricabile gratuitamente parliamo adesso di infrastrutture l'assessore regionale Marco Falcone ha visitato i cantieri autostradali della Siracusa Ragusa Gela ormai fermi da mesi le ditte subappaltanti aspettano i pagamenti da almeno 18 mesi e chiedono all'amministrazione regionale un intervento immediato per trovare una soluzione per Falcone la soluzione a portata di mano e dentro il 2019 il tratto Rosolini Ispica dovrà essere completato al momento a Modica si sta tenendo una riunione fra i rappresentanti delle imprese un rappresentante del CAS Consorzio Autostrade Siciliane e l'assessore regionale Falcone ed intanto mentre sono in tilt proprio in queste ore i collegamenti con le isole minori proprio a causa del maltempo a Via Grande la provinciale che collega con Monte Rosso rimane ancora chiusa dopo le forti raffiche di vento era stata lo avevamo detto invasa dagli alberi allora sentiamo il servizio di Francesco Larosa Il forte vento abbattutosi su tutta la zona etnene i giorni scorsi ha provocato notevoli danni in maniera particolare nella zona di Zafferane e di Via Grande in quest'ultimo comune è ancora transennata la via Garibaldi nel tratto che collega il centro di Via Grande con Monte Rosso alberi anche di grosso fusto abbattuti qua e là cancelli divelti muri abbattuti e fili dell'Enel della Telecom Penzolanti stamattina sopra luogo da parte dei tecnici per un'ulteriore verifica e accelerare i tempi di ripristino della linea elettrica la strada al momento resta ancora chiusa con il comune di Via Grande che ha già fatto richiesta alla protezione civile del riconoscimento di stato di calamità naturale onestamente Via Grande si è verificato un evento eccezionale un evento straordinario che ha creato un po' di problemi la strada siamo riusciti attraverso i pubblici servizi della provincia attraverso i volontari della protezione civile e le associazioni in stretto collegamento con la prefettura e il dipartimento a liberarla in qualche modo dal danno che si è verificato parecchi alberi sono caduti sulla provinciale che hanno interrotto anche le linee di comunicazione dell'Enel per quanto riguarda gli alberi sono stati rimossi rimane qualche cumulo sui cigli della strada che stiamo prontamente togliendo rimane da verificare la linea Enel che al più presto verrà ripristinata Avete chiesto lo stato di calamità naturale? Sì abbiamo chiesto lo stato di calamità perché è stato veramente un evento eccezionale di conseguenza ci sono stati molti danni sia soprattutto per i privati e di conseguenza abbiamo invitato la gente a fornire le relazioni una prima impostazione delle spese voglio dire che hanno sostenuto per poter poi relazionare alla regione Quando la situazione si prevede possa tornare definitivamente alla normalità? Penso ormai qualche giorno perché per quanto riguarda l'Enel le quattro squadre che sono intervenute sul nostro territorio nelle zone un po' più disastrate hanno fornito dei gruppi dei generatori di corrente che hanno messo hanno fatto ripristinare provvisoriamente la corrente elettrica nel momento in cui ripristineranno le linee tutto ritornerà alla normalità Adesso invece sentiamo i commercianti della provincia di Catania in particolare siamo andati a Giarre per sondare come sono andate queste festività ma in particolare un primo bilancio è stato tracciato del primo weekend di saldi ufficiali Daniela Cantarella timidi segnali di rinascita per il comune di Giarre che all'indomani delle festività a pochi giorni dall'inizio degli sconti traccia un piccolo bilancio riguardante le attività commerciali al di là delle polemiche tra commercianti pro o contro l'isola pedonale i dati emersi dall'analisi del presidente di Confcommercio di Giarre Attilio Lopò lasciano ben sperare 17 le nuove attività aperte nel comune che aspira a tornare il polo di attrazione commerciale di un tempo per far questo però afferma Lopò bisogna superare lo scollamento tra i commercianti e accogliere gli sforzi dell'associazione sindacale le attività commerciali per quello che ci riguarda per le informazioni che abbiamo avuto questo Natale hanno avuto un discreto segnale di ripresa una ripresa rispetto a quello che è il Natale dell'anno scorso e quindi delle vendite che sicuramente sono state superiori per lo meno allo stesso periodo il discorso degli sconti ancora forse è troppo presto anche se il primo giorno mi è stato riferito che comunque è stato positivo quindi questi sono i pro di contro ci sono delle lamentele che comunque non mancano mai sì le lamentele ovviamente sono parte quotidiana del nostro lavoro soprattutto ma sono delle lamentele che sono nate per il periodo natalizio perché dai più ci sono arrivate delle accuse di non organizzare un Natale non allestire una città io sfrutto anche il vostro canale per dire questo Confcommercio non organizza eventi Confcommercio non allestisce una città non addobba una città quelle sono altre le persone che ne rispondono da questo punto di vista tengo a sottolineare che Confcommercio è una sigla sindacale quindi sviluppa proprio queste nuove modalità iniziative per portare avanti il commercio tra le novità del nuovo anno a favore dei commercianti interessati ad investire a Giarre un piano di agevolazioni che Confcommercio ha presentato al comune uno sportello a cura dell'associazione sindacale fornirà informazioni riguardo a sconti e agevolazioni per gli imprenditori tra questi la rimozione della tassa per il cambio destinazione uso la scontistica per un periodo di 2-3 anni di tarso e canone idrico le agevolazioni bancarie su apertura conto corrente e finanziamenti l'accordo tra Confcommercio e proprietari di botteghe per agevolare il riaffitto e la riapertura dei locali vorremmo creare una sorta di sportello per le nuove attività quindi per creare opportunità di apertura di nuovi negozi quindi avendo una sorta di pacchetto già pronto quindi un imprenditore che sia già reso e ce l'auguriamo prima di tutto ma comunque anche investitori esterni possano in maniera molto veloce con delle agevolazioni sia di natura economica ma anche di natura amministrativa aprire in brevissimo tempo un'attività ed essere operativi nell'arco al massimo di un mese e dopo le abbuffate di queste feste starete certamente tutti pensando di ritornare come ritornare alla normalità allora nella rubrica la salute in forma curata da Daniela Cantarella quest'oggi parliamo proprio di sport e alimentazione sport e corretta alimentazione due alleati perfetti per mantenere in salute corpo e mente uno stile alimentare corretto ed equilibrato rappresenta il sistema più adatto per soddisfare i particolari bisogni energetici e nutrizionali degli sportivi sia amatoriali che professionisti ma è tuttavia raccomandabile anche ai soggetti non abituati a praticare attività fisica oggi più che mai sport e buone abitudini a tavola prevengono l'insorgenza dell'obesità con particolare riferimento all'obesità infantile favorita dalla riduzione del movimento ed ha sempre maggiori interesse nei confronti di televisione videogiochi e computer un ruolo fondamentale nell'attività sportiva è rappresentato dalla dieta seguita giornalmente pur non esistendo alimenti miracolosi in grado da soli di migliorare le prestazioni fisiche si può affermare che la giusta alimentazione associata ad un allenamento adeguato consente il massimo rendimento agonistico se l'obiettivo è poi quello di perdere qualche chilo e rimettersi in linea ecco che il regime alimentare idoneo accoppiato ad una specifica attività sportiva diventa indispensabile messaggi non corretti o fuorvianti impediscono spesso un'adeguata consapevolezza sull'importanza dell'alimentazione nello sport per tali ragioni oggi più che mai è necessario elevare il livello di conoscenza della popolazione in generale e di chi pratica sport in particolare sugli stili di vita adeguati per il mantenimento della salute diete fai da te mischiate a falsi miti e scorretto uso di integratori e prodotti dietetici mettono a serio rischio la salute di adulti e ragazzi spesso abituati inconsapevolmente ad assumere comportamenti alimentari cause a lungo termine anche di gravi problematiche l'alimentazione dello sportivo a tutti i livelli è un elemento incisivo può migliorare le prestazioni in palestra o vanificare del tutto gli sforzi fatti importanti i tempi per un allenamento nelle ore mattutine il consiglio è di scegliere un pasto che non impieghi troppo tempo per essere assimilato e di facile digestione se l'attività sportiva è prevista nella pausa pranzo è importante ricordare di sedersi a tavola solo dopo l'allenamento ma non troppo tardi a distanza di massimo un'ora se infine si va in palestra la sera si potrà scegliere tra uno spuntino prima dell'attività sportiva o una cena leggera a seguire da evitare in questo caso pasta, riso o pizza nelle ore troppo tarde importante inoltre porsi un obiettivo tenere un diario nutrizionale per annotare cosa si ingerisce e quante calorie limitare il consumo di burro e dolci evitare alcol e fumo non saltare mai la colazione introdurre le giuste proteine per costruire i muscoli evitare i cibi spazzatura e consumare molta verdura e frutta se non ci si allena fare almeno una passeggiata prima di andare a letto è importante inoltre mangiare lentamente e bere molta acqua questi solo alcuni dei consigli di esperti e professionisti del settore a svelarci tutti i segreti e le nuove scoperte in ambito di strategie alimentari nella pratica sportiva sarà oggi il dottor Marco Trovato nutrizionista ed educatore alimentare della federazione italiana tennis ben ritrovati con la salute in forma diamo intanto il benvenuto al nostro dottore Marco Trovato grazie per essere qui con noi grazie a voi per l'invito graditissimo mi fa immensamente piacere parlare sempre di queste tematiche legate all'alimentazione l'alimentazione al giorno d'oggi è la scienza che più incide diciamo nella nostra routine giornaliera quindi è necessario parlarne con diciamo estrema efficienza è così bene come appunto anticipava il nostro dottore nutrizionista come avete sentito dalla nostra scheda di presentazione oggi parleremo di sport e alimentazione un argomento dottore abbastanza vasto che però non tutti nasconde diversi falsi miti falsi miti che noi con il nostro dottore durante la puntata sfaderemo o chiariremo comunque bene dottore iniziando a parlare appunto di sport non tutti sanno che c'è un collegamento strettissimo tra l'attività sportiva e il metabolismo ovvero fare sport velocizza notevolmente il metabolismo da cui dipende anche la velocità con cui noi tutti bruciamo i grassi assolutamente sì quindi in questo caso si dimagrisce in maniera più corretta e anche più velocemente giusto dottore assolutamente sì adottando il io lo chiamo matrimonio fra alimentazione e sport si ottengono sicuramente dei risultati di massima efficienza anche a livello estetico anzi soprattutto a livello estetico mi parlavi di aumento del metabolismo bene sì l'aumento della massa magra soprattutto nella donna favorisce il dimagrimento a favore della massa grassa quindi è una massa magra questo tessuto muscolare che sviluppandosi tende a far consumare di più ecco la nostra automobile che è il nostro corpo umano e quindi adoperando come carburante a riposo i grassi bene cerchiamo di entrare nel vivo del nostro argomento dottore parliamo di un altro falso mito diciamo c'è un po' di confusione sull'assunzione dei carboidrati fanno parte della dieta dello sportivo sicuramente dottore come bisogna assumerli in base all'attività sportiva che si pratica bene il carboidrato partiamo dal concetto che è la benzina ufficiale dell'atleta e anche del non atleta ma se parliamo nello specifico di attività sportiva non possiamo che parlare positivamente dei carboidrati proprio perché ci danno l'energia necessaria ad affrontare l'attività fisica ma non solo pensiamo bene che riallacciandoci diciamo alla domanda precedente sul metabolismo e sulla crescita muscolare che senza carboidrati non riusciremmo a dare energia agli eventi cellulari per poter far crescere il muscolo quindi il carboidrato rimane in primis il carburante principale del nostro organismo dottore un altro aspetto importante nella vita di uno sportivo sono i tempi in cui si consumano i passi prima e dopo gli allenamenti non tutti fanno attenzione a questo particolare importantissimo perché ci sono degli accorgimenti che se seguiti possono valorizzare i risultati e le prestazioni se invece non sono seguiti possono anche vanificare tutti gli sportifatti assolutamente sì le tempistiche sono fondamentali nello sport in quanto è bene mangiare prima dell'attività sportiva quindi a seconda dell'attività sportiva che facciamo può variare dalle tre all'ora e mezza precedente all'evento di allenamento all'evento sportivo o alla gara è bene mangiare anche dopo l'attività sportiva perché è importante ricaricare le energie perse durante l'allenamento nel nuoto ad esempio è importante andare a mangiare dei piccoli snack creati ovviamente home made ovvero sia in casa a distanza di un'ora circa dalla fine dell'allenamento e a intervalli regolari per le ore successive cioè ogni ora successiva all'allenamento bisognerà alimentarsi con uno snack a base di carboidrati che permetta il ripristino ovviamente delle energie perse investite durante l'allenamento o la gara tra i falsi miti da sfatare ce n'è uno in particolare che renderà felicissime credo considerando che sono una donna anch'io le donne che ci seguono da casa sembrerebbe infatti che durante un'attività sportiva le donne consumino più grassi rispetto agli uomini e quindi questo vuol dire che le donne a tavola possono concedersi qualcosina in più sì bisogna ben distinguere cosa bisogna concedersi ecco perché il mondo dei grassi è molto vario diciamo che da uno studio del 2007 ci si è accorti che la donna rispetto all'uomo ha un consumo più alto a livello muscolare di trigliceridi intramuscolari quindi l'apporto sicuramente di frutta secca nel caso in cui nel caso quindi di grassi buoni è sicuramente consigliabile per una donna che fa attività sportiva proprio perché questo la aiuta ad avere più energia e quindi a spingere meglio durante la fase di allenamento bene grazie dottore prego grazie di averci seguiti ora TG si ferma qui vi ricordo che però è disponibile anche sul sito internet reitv.it e attraverso il canale youtube adesso come sempre le previsioni del tempo grazie arrivederci le previsioni meteo in Sicilia per la giornata del 9 gennaio 2018 il cielo sarà parzialmente nuvoloso con rischio precipitazioni sul messinese mari generalmente calmi le temperature ancora al di sopra della media stagionale andranno nell'isola dai 18 agli 8 gradi a Catania stabili sui 16 17 gradi grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.